In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la capitale italiana della cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo. Il noto scrittore di letteratura contemporanea Gianrico Carufiglio è stato a Pesaro in occasione di incontri capitali nell'anno della capitale italiana della cultura per rappresentare il suo ultimo libro L'Orizzonte della Notte che riporta sulla scena letteraria il popolare avvocato Guido Guerrieri. Parliamo dell'Orizzonte della Notte che è l'ultimo romanzo con Guido Guerrieri protagonista e dobbiamo aspettarci una chiacchierata su questo libro che si snoda su due piani narrativi. C'è una storia processuale, un processo in cui Guido Guerrieri difende una donna accusata di omicidio e poi c'è la storia personale di Guido Guerrieri che attraversa una crisi devastante ed è costretto ad andare da uno psicanalista. Le conversazioni con le psicanalista sono una sorta di esplorazione della coscienza di questo personaggio, una specie di viaggio nelle tenebre della perdita, del rimpianto, del senso del tempo che passa ma anche una scommessa sulla possibilità di andare alla ricerca della felicità anche quando le cose sembrano alquanto oscure. Il senso del titolo è proprio questo. Il settimo romanzo con protagonista Guido Guerrieri li scrivo con parecchi anni fra l'uno e l'altro perché ho bisogno che ci sia appunto una scintilla narrativa e in questo romanzo io volevo proprio raccontare, me ne sono accorto scrivendo, volevo raccontare del confronto che tutti quanti noi soprattutto in certa età della vita abbiamo col senso di perdita, con la malinconia e contemporaneamente però con l'idea appunto che proprio attraversando la malinconia o proprio la tristezza sia possibile scommettere nuovamente sulle possibilità della vita. Un'occasione, quella di Caro Figlio, per parlare anche dell'importanza della cultura letteraria dalla quale emerge poi anche il suo rapporto con la città di Pesaro. La letteratura e più in generale il raccontare storie, il raccontare buone storie, il raccontare personaggi in cui i lettori possano immedesimarsi è la spina dorsale della cultura di un paese ma in generale dell'umanità. L'idea che in un libro vedendo, leggendo, immedesimandoci in storie di fantasia riusciamo a capire qualcosa della nostra umanità è un passaggio fondamentale per l'appunto degli esseri umani. Pesaro la conosco molto bene, ci sono venuto tantissime volte quindi in realtà posso raccontare di un rapporto di lunghissima data, di simpatia. Ci sono venuto addirittura da ragazzino quando mio padre faceva il professore, venne qui a fare il presidente di commissione degli esami di maturità, ero molto piccolo, quindi posso raccontare la storia di una conoscenza che dura ormai da parecchi decenni. In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la capitale italiana della cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra, come in una famiglia condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo.